Eminenza, oggi è giorno di auguri per Papa Francesco, ma anche di analisi del suo ministero. A suo parere però, qual è il cuore di questo pontificato? Ma io sono convinto che il cuore del pontificato, lui lo ha dato con quelle tre battute quando è iniziato il pontificato, quando si è affacciato e con la semplicità di un fratello di fronte agli altri fratelli ha detto buonasera, ci si saluta. E poi si è presentato nella maniera più semplice che potesse fare, dice sono venuto dalla fine del mondo, quasi per scusarsi che veniva da lontano. E poi ecco quel gesto che ha subito fatto capire e ha subito creato una grande empatia è con tutto il popolo, che prima di dare la benedizione ha detto beneditemi, perché io sto iniziando un ministero molto difficile e ho bisogno che mi accompagnate con la vostra benedizione. Intendendo la benedizione nella etimologia della parola, se io dico ti benedico vuol dire che dico benedite a Dio. Era come una raccomandazione, un affidarsi, dite bene di me a Dio. E si capì subito quale poteva essere la chiave del suo pontificato, questo aprire il cuore, questo andare incontro, questa attenzione sempre ai piccoli e agli ultimi, a quelli che lui chiama gli scarti della tecnocrazia. Una parola che ha usata nella Laudato Si. Un papaschietto dunque al quale abbiamo visto fare gesti inusuali fino ad ora per un pontefice. Qual è, se c'è, un episodio personale che sintetizza il suo essere papa e che lo lega un po' a lei? Ma io credo che fino da quando ci siamo conosciuti, e io gli presentai la prima volta la piccola conferenza dell'Umbria dicendo noi siamo la regione forse più piccola d'Italia, ma non la meno significativa, perché abbiamo dato appunto alla luce Francesco, San Benedetto. E lui disse, San Benedetto è Umbro, sì, sì, ci pensavo fosse laziale. Ecco, poi gli disse, noi abbiamo un lago, che bellissimo, Santità, come quello di Tiberiade, anzi, forse anche più bello. Davvero, lo venga a vedere. Ecco, questo fu l'inizio del colloquio del papa con la conferenza episcopale. Credo che siamo stati i primi nella visita all'Immina. Ci eravamo messi tutto, avevamo fatto un cerchio alla scaute e lui disse, io non sono ancora pratico di come funzionano le visite all'Immina. Siamo tutti vescovi, cominciamo a parlare delle nostre esperienze, raccontiamoci. E fu da quel raccontiamoci che io ho individuato la tempra dell'uomo e del pastore. C'è un episodio particolare però che lo lega a lei e che mette in luce anche la sensibilità del papa. Sì, può sembrare insignificante, ma per me è bello, ma riempito veramente di tenerezza. Perché questo è il papa della tenerezza. Stavamo andando al sinodo, ma io venivo in su, forse mi ero dimenticato di qualcosa, quindi eravamo in senso contrario. Quando mi è passato accanto, senza dirmi nulla, ho visto che avevo in mano, mi sembrava una busta, e me l'ha messa in tasca, senza dire nulla. Io dico, ma ero curioso di arrivare presto a Santa Marta. Dico, ma sicuramente non mi ha messa in tasca dei quattrini. E quindi sarà qualcosa di estremamente interessante. Apro la busta e c'era la novena a Santa Teresina del bambino di Gesù della Rosa. Poi quando l'ho rivisto, dice, guarda, è potente quella santa. Quando hai bisogno, fai la novena e chiedigli una rosa, che poi è una grazia celeste, te la manda, è generosa, è buona, è vicina a Gesù. Questa è la spiritualità del Papa. Ieri a Minenza una precisazione del Papa Emerito Benedetto XVI, che chiarisce non solo la continuità tra i due pontificati, ma soprattutto smantella ogni dubbio sulla valenza dottrinale e teologica di Francesco. Che ne pensa lei? Ne penso che il Papa Benedetto ha fatto molto bene, perché mentre ha rimesso sul giusto piedistallo Papa Francesco, si è rimessa anche per sé, giustamente. Perché, in fondo, la diceria era questa. Benedetto, un grande teologo. Francesco, un grande pastore. Quindi, di tutte e due, alla fine, si sottolineavano i limiti. È come se Benedetto avesse detto, guardate che lui è un grande pastore, ma anche un grande teologo, ha insegnato teologia, e poi si vede la sua preparazione. Perché non lasciamoci ingannare dal modo semplice, ma i contenuti sono profondissimi, soprattutto poi dei tre documenti che segnano tutto il suo pontificale, anche se non ne scrivesse più, che sono l'Evangelii Gaudium, la gioia dell'Evangelo, la moris letizia, la letizia dell'amore, e la laudatosi. Sì, e poi il volto di Dio, che è volto di misericordia. Vultus misericordia. Quindi, praticamente, c'è la profondità del teologo. E il Papa Benedetto ha detto, lui è un grande pastore, ma è anche un teologo. E permettete, io sono un teologo, ma sono stato anche un pastore. È bellissimo questo, in fondo, raffigurarsi tutte e due anche nel ministero, con una continuità veramente meravigliosa, ecco. Gliel'avrò fatti sicuramente, ma attraverso la telecamera un augurio al Papa glielo vuole fare? Sì, Papa Francesco, a nome della Chiesa Italiana, te l'abbiamo anche scritto, ora te lo diciamo col cuore. Ti siamo vicini e ti facciamo i nostri auguri più affettuoso. Coraggio, Papa Francesco, vai avanti.